Ciao a tutti e benvenuti a Los Angeles, siamo dietro, ci troviamo al Convention Center di Los Angeles, oggi inizia E3 2017, sono le ore 11.30 e tra ben 20... 11.35, a mezzogiorno comincia la fiera e a mezzogiorno abbiamo il primo appuntamento ovvero Pure Farming 2017, proveremo a fare le prese scontadine, vi portiamo dentro la fiera fino ad arrivare alla sala stampa così vi facciamo vedere un po' com'è tutto qui a Los Angeles, stranamente a quest'ora c'è sempre la June Gloom quindi è tutto grigio invece oggi proprio perché inizia E3 2017 ho già la scella un po' pezzata, ma non so se è un problema vostro, entriamo dentro la fiera, questa è il che che hall è questa? West, South, andiamo, guardate la magnificenza di questo posto, questa è la South Hall, la fiera è divisa in due hall separate, una la South e l'altra la West, adesso forse ci sta per essere il taglio del nastro, andiamo a vedere, ah c'è Erika che non vuole dire niente ma non capisco per quale motivo, ma non è vero, è già pronta con il suo album degli appunti, si, che proveremo a stare, io caddo, io muoro, qui in questo momento sta avvenendo il taglio del nastro, vediamo un pochino, non so se questo signore che parla è sitato di Los Angeles o qualcosa di simile ma dovrebbe essere più o meno così, che sta dicendo quanto è figo qua le 3 di Los Angeles Guarda 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 Eccidiamo il nastro del taglio Sono entusiasta, io sono entusiasta non collaborano. Adesso Erika ci spiega che cos'è questa fila per esempio. Prego. Questa fila che vedete qui alla mia sinistra è per entrare all'interno della West Hall dove ci sono tutti gli stand. È la South questa. Non è la West. La South. Forse? Non lo so, non lo so. È una delle Hall, ma lo scopriremo a breve. La fila, praticamente là c'è l'ingresso e ci sono tutti i fantastici stand per quella regione. Queste persone stanno facendo la fila praticamente da due o tre ore. Sono qui in trepidata attesa per entrare. Secondo me qualcuno sta già svenendo più o meno. Quelle porte là in fondo invece sono... è proprio l'ingresso ancora chiuso. Non sappiamo che stand ci sono, perlomeno dovremmo saperlo. Come sono fatti? Ma chi se lo ricorda? Proseguendo in questo corridoio invece ci troviamo vicini alla sala stampa di dove c'è la gente che lavora, non come noi che andiamo in giro a fare cose. Adesso vi mostriamo anche la sala stampa. Questo primo giorno di E3 sarà già super pregno di appuntamenti. Io sono già stanca. Sono già stanca, lo sapete? E ho anche? Ho fame. Brava. Ho anche fame. Perfetto. Adesso bisogna mostrare il badge per entrare in sala stampa. Oltre ad esserci l'aria condizionata a palla qui c'è il wifi su tutta la fiera qui abbiamo il wifi. Dovete sapere che la sala stampa, non solo qui anche le altre sale stampe, o ci si porta il pc da casa oppure... Dovrebbero essere... Ci sono le impostazioni con i computer che ti danno il prestito? No, basta. Non ci sono più. Le hai rubate tutte. C'erano. Comunque ragazzi ci sentiamo più tardi. Noi intanto andiamo a provare i primi e primissimi giochi. Guardate l'entusiasmo di queste due ragazze. Ragazzi. Eh? Sei rimasta un po' così eh? Bene. Tanti baci, tanti abbracci. Ci vediamo al prossimo video. Ciao!